Il 46% degli italiani si affida alla rete internet per cercare la propria casa vacanza e per questo motivo la polizia di stato, la polizia postale delle comunicazioni insieme al portale subito.it è scesa in campo per fare in modo che gli italiani possano scegliere la propria casa vacanza senza correre il rischio di ritrovarsi invece in una casa fantasma. A mezzogiorno? Sì, sì. Aspettami. Sì. Non mancare. No. Ciao, guarda. Quali sono le cose importanti da verificare prima ancora di pagare in anticipo una casa? Verificare l'esistenza della stessa attraverso Google Immagini. È possibile trasportare l'immagine degli immobili che si intende affittare sul motore di ricerca e verificare se questa immagine circola già sulla rete internet. L'altro aspetto importante che si può fare attraverso la rete internet è andare su Google Map per vedere effettivamente se la casa che si vuole affittare si trovi effettivamente nel luogo in cui riesce di essere l'inserzionista. Un altro aspetto importante è paragonare sempre il prezzo della casa e quello degli altri annunci per vedere effettivamente se il prezzo è coerente con i prezzi di mercato. Un altro importante aspetto è quello di non dare mai una caparra superiore al 20% dell'importo attuito, utilizzare sempre metodi di pagamento tracciabili, quindi non bisogna mai fare versamenti su carta ricaricabile oppure metodi di pagamento attraverso i servizi di trasferimento di denaro. Tutte le informazioni utili per un acquisto sicuro sulla rete internet potete trovarle sul nostro commissariato dps.it che è il portale della Polizia Postale e delle Comunicazioni oppure attraverso le pagine Facebook, sempre della Polizia Postale, commissariato dps online in Italia, quindi non mi resta che dirvi buone vacanze a tutti.